Abbiamo la numero 22, Tania, che ci porta Katana da Suicide Squad. In questo mondo, tu sarai sempre con me, sarai lì la nonna della mia spagna, della mia Katana. E io allora sbaglio, mi cederò Katana in un uomo giù. Ricordo con te, io ti amo a questo. Grazie. E grazie mille ai nostri appari, non ci guarda il male con queste Katane. Quella spagna non è una spagna normale, sento che è qualcosa che non è normale. La Katana, sappiamo, la Katana di Katana è un po' particolare, quindi noi vogliamo assolutamente essere in pericolo di vita. Infatti guardate dalla nostra giuridiaria.